Hai i capelli gonfi, disordinati e crespi? Alcuni trucchi per tenerli a bada, con tagli adatti a te. Il periodo più critico è nella stagione fredda. Le cause sono numerose. Spesso si gonfiano per la poca idratazione, in quanto i capelli secchi tendono ad assorbire l'umidità, diventando elettrici. Attenta al taglio di capelli. Non adatto potrebbe peggiorare. Dopo vedremo i tagli. Lo shampoo dovrà essere adatto, ma vediamo insieme i rimedi. Lava i capelli tre volte alla settimana. Ti consiglio la sera, così la mattina saranno più piatti. Dopo lo shampoo non sfregarli con l'asciugamano, per non spezzare le punte. Non utilizzare un pettine stretto, ma utilizza quello a denti larghi. Non asciugare i capelli a testa in giù, o verranno così. Utilizza shampoo e maschera senza slas, e che non contengano solfatti, oi che favoriscono l'effetto crespo, ma che contengono collagene, cheratina e olio di jojoba. Questi. Che taglio di capelli devi evitare? No, ai capelli molto scalati. L'ideale è che la base della lunghezza non arrivi qui, ma all'altezza del collo. No, carré. Se prendono umidità diventerebbero larghi. Sì, all'asfoltita con le forbici a denti. Ma attenzione! A non esagerare potrebbe creare l'effetto al contrario. Perché sfoltire non significa eliminare, ma solo accorciarli. Evita la sfoltitura troppo vicino alla radice. Qui. No. Ti ritroverai con troppi capelli. Utilizza un prodotto anticrespo prima di fare una piega. Così potrà proteggerli, districarli e nutrirli. Come Keratin 10. Per altri consigli, seguimi e scrivi nei commenti. Così potrà proteggerli, districare, 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 districare.